Pinetto e Atessa sono le due squadre arrivate all'atto finale dei playoff di promozione e dall'esito della doppia sfida uscirà fuori il nome della squadra che nel girone B seguirà l'Ortona nel prossimo campionato di eccellenza. La Tessa che al termine della stagione regolare ha chiuso al secondo posto può disporre di due risultati utili su tre mentre il Pinetto che gioca in casa la gara d'andata deve vincere a tutti i costi. E' degli ospiti però il primo tiro verso la porta avversaria al terzo infatti il calcio piazzato di Campli si perde sul fondo. Cinque minuti dopo i biancazzurri rispondono con la conclusione di Perini che si alza di poco sopra i legni della porta tessana. Al dodicesimo è ancora Perini a provare l'affondo ma il suo destro viene smorzato sulla traversa dall'intervento difensivo di Lombardi. Al diciannovesimo il tiro dalla distanza di Silvetti viene intercettato da Rotunno con qualche difficoltà. Pochi istanti dopo l'estremo difensore a Tessano intercetta un sinistro a rientrare di De Petris. Dopo la sfuriata biancazzurra la Tessa torna in avanti e al trentottesimo va vicina alla segnatura con Antonello Croniale che riceve un preciso assist di Mainella ma la sua incornata viene deviata da Falcone sulla traversa. Il primo parziale va dunque all'archivi con il classico risultato ad occhiali che sta bene soltanto alla Tessa e sono proprio gli uomini di Giandonato a cominciare la ripresa con la prima azione pericolosa. Al quarto infatti di Cencio scambia con Della Rocca e lascia partire un destro dal limite che non crea eccessivi grattacapi a Falcone. Al ventesimo la debole conclusione di Perini viene dirottata in corner da Silva. Cinque minuti dopo Cipollone non riesce a trovare il tempo giusto per battere a rete da invidiabile posizione. Alla mezz'ora Croniale prova il colpo di testa con il pallone che si alza sopra i legni. Due minuti dopo è ancora Croniale a provare la via del gol ma il suo destro dal limite viene intercettato da Falcone. La gara sembra non riservare altro a parte la solita girandola di sostituzioni ma nel calcio si sa la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Il direttore di gara segna infatti cinque minuti di recupero è proprio nell'ultimo di questi il Pineto pesca il jolly che affonda la tessa. Dalla bandierina pica Scodella al centro dove di Cencio interviene per spazzare via il pallone. La sfera arriva però dalle parti di Mancinelli che fulmina rotunno con un gran sinistro al volo che fa esplodere la parte di stadio di Fede Biancazzurra. La tessa non ha il tempo materiale per rimediare al KO visto che pochi istanti dopo arriverà il triplice fischio del signor Pacilli. La gara uno di finale dunque a pannaggio del Pineto ma tra sette giorni a Montemarconi la tessa avrà la possibilità di ribaltare il risultato per centrare l'ambita a promozione in eccellenza. Mister Giandonato alla tessa stava bene anche un pari poi c'è stato il gol nei minuti finali anzi possiamo dire anche nei secondi finali che vi ha un po' rovinato la giornata vero? Ma sì è stata un'occasione che loro hanno sfruttato al 95esimo, un rimballo, un tiro da fuori e hanno fatto gol. Comunque ci giochiamo tutto nella gara di ritorno, basta fare un gol di scarto per essere qualificati e ci proviamo sicuramente. Il Pineto come l'ha visto? Il Pineto è una squadra ostica, lo sapevamo, è una squadra ben organizzata di giovani che corrono però penso che di occasioni non è che ne abbia create e ha trovato sto giochi alla fine e purtroppo dobbiamo, ritorno dobbiamo ribaltare la situazione. Abbiamo visto all'inizio che ha schierato il portiere Rotunno in formazione, per quale motivo? Abbiamo fuori Rosselli per squalifica quindi ho preferito mettere il Rotunno in porte che è un 85 in fuori quadro pure lui, ma eravamo venuti qua per giocare la partita come penso che avete ben visto ma siamo stati solo sfortunati nell'occasione del gol. Penso che la squadra abbia dimostrato di stare bene ha tenuto il campo bene fino alla fine su un terreno molto pesante quindi siamo comunque fiduciosi. All'atto finale di questi playoff si affrontano secondo lei le squadre che più meritavano? Penso di sì perché il Pineda ha fatto un grossissimo giro di torno e noi penso che abbiamo fatto un grandissimo campionato. Veramente il Pineda è sempre stata una squadra che ci ha messo in difficoltà sia l'andata sia il ritorno e penso che sono due squadre che meritano di spurtarsi questa finale anche se a questo punto noi al ritorno non possiamo fallire dopo aver fatto 66 punti non possiamo regalare un campionato del genere. Marco D'Ambrosio è il capitano del Pineto, una vittoria acciuffata per i capelli nelle battute finali della gara. Tre punti, anzi un successo che vale molto per voi. È un successo sicuramente importantissimo visto anche quello che abbiamo fatto. Un gruppo di ragazzi che si allena quattro volte a settimana mette tanta voglia e tanta passione e credo che giocare questa finale con una squadra diciamo blasonata come la Tessa ed essere riusciti a vincere anche il 95esimo per noi è una grande soddisfazione. Adesso ci giocheremo in ritorno con tutte le nostre forze. In fatto di blasone il Pineto comunque non ha nulla da invidiare alle altre per il lungo passato in interregionale. Secondo te è possibile un ritorno in questa categoria? Noi lo speriamo, ce lo auguriamo e ce la metteremo tutta per tornare ai livelli che questo paese merita. Un giudizio infine sulla Tessa? Lo sapevamo, è un'ottima squadra. È una squadra che al pari dell'Ortona meritava di tornare in eccellenza già come vincitrice. Adesso sta facendo questi playoff, questa finale, però anche noi siamo lì e ce la giocheremo fino alla fine. Grazie a tutti.